Ancora in crescita per la quarta settimana consecutiva la curva epidemica Covid in Italia. Nell'ultima settimana i casi positivi sono raddoppiati, così come sono aumentati anche i ricoveri. SARS-CoV-2 torna dunque a galoppare, complici il freddo e la campagna vaccinale praticamente ferma. L'Abruzzo, nel rapporto tra nuovi casi e numero di popolazione, è tra le prime regioni in Italia. C'è una circolazione sostenuta che si era annunciata già nei mesi estivi senza la pausa tradizionale con le precedenti varianti ed è legata al fatto che lo sciame di varianti che Omicron sta generando fa sì che l'infezione da SARS-CoV-2 con queste varianti super trasmissibili sia frequente, anche se non necessariamente importante. Ma la circolazione del virus è garantita dalla sua infettività. Quindi questo che stiamo vedendo adesso con l'incremento della vita al chiuso, col mantenimento di un assetto organizzativo senza mascherine e senza nessuna sostanziale protezione è proprio il risultato di quello che era già iniziato quest'estate. Indicatore in crescita sia per quanto riguarda il numero di nuovi positivi che per l'impatto sulle strutture ospedaliere, anche se la situazione rimane sotto controllo. Sì, la situazione rimane senz'altro sotto controllo, però quello che lei dice è molto corretto. Abbiamo avuto 14 polmoniti importanti nelle ultime 10-12 giorni nell'Als di Pescara, un segnale che la protezione vulnerabile comincia a fronte di questa circolazione larga ad essere raggiunta molto spesso in uno stato che noi adesso definiamo di invecchiamento vaccinale. Cioè sono tantissime le persone che non ricevono una dose di vaccino da oltre 12 mesi e la protezione purtroppo scende molto rapidamente. Quindi bisogna decisamente prendere in considerazione in questo contesto il ricorso alla vaccinazione. Lo diciamo sempre ma è quanto mai necessario in questo momento. Per quanto riguarda le cure farmacologiche cosa fare, professor Parruti? Ecco, questa è la novità secondo me più importante, nel senso che le persone a rischio di sviluppare delle forme importanti devono essere valutate dal proprio medico curante entro le prime 24 ore dalla notizia della infezione e se sono effettivamente riscontrate a rischio aumentato di progressione verso la polmonite ma anche verso le altre complicanze non polmonari, bene, allora la prescrizione dell'antivirale è fondamentale. Per coloro che avessero difficoltà nella prescrizione sul territorio ci sono i The Hospital Covid, nella nostra house di ieri abbiamo fatto 50 accessi quindi è una struttura per fortuna molto importante in questo momento.